Il tamburo principale della famosa banda è stata l'unica cosa che ha fatto conoscere in Italia il piccolo centro di Affori, alla periferia di Milano. Giuseppe Marchioro, detto Pippo, che lì è nato meno di 40 anni fa, vorrebbe diventarne cittadino illustre, sì, insomma, prendere il posto del tamburo. Nel calcio ha fatto meglio come allenatore che come giocatore, ha portato il Como in ala l'anno scorso e quest'anno è alla guida della Rivelazione Cesena. Parlo di lui perché si dice che l'anno prossimo sarà del Milan, le solite indiscrezioni forse, quelle che tutti smentiscono, ma è chiaro che Pippo Marchioro oggi ha osservato tutte e due le squadre con occhio interessato, il suo Cesena dal gioco corto e le prodezze di Rivera, oggi in giornata di Vena. Osservati infatti come l'ex Golden Boy, ma non si sa fino a che punto è ex, metta Biasiolo in condizioni di segnare. 1-0 per il Milan. Complimenti stretti di mano e pensare che c'è qualcuno che sostiene ancora che al Milan non vanno d'accordo. Vediamo ora gli altri gol della giornata. Tadena Dai, un giovane di belle speranze, è entrato per fare il libero e subito segnato, forse perché al suo posto era uscito Callone. Il Cesena, che aveva sbagliato a ripetizione il gol del pareggio, ha fatto subito quello del duo A1 con Urban. Finisce così Milan-Cesena, non passerà alla storia.